Ebbene ragazzi, buonasera, siamo qui al seminario di Massimo Tamasco. Io sono arrivata qui con il mio metro. Lo posiziono, qual era la... No, io ricordo una cosa, ma non è quella ufficiale. Cosa ricordi? Era dei metri. Questo è il metro al centimetro, ecco. Tutti i maschietti saranno misurati. Ho letto qualcosa. Partendo. Da me. Sì, cominciamo con Vito. Vieni qua che ti misuro il naso. Ok, grazie. No. Va bene, chiudi.